I Lidi Salentini non smonteranno almeno per ora l'esito del protocollo firmato in Prefettura, la presenza della sovrintendenza e delle associazioni di categoria che apre uno spiraglio sulla possibilità che le strutture balneari restino aperte così tutto l'anno. Il protocollo che mira a coniugare l'interesse della tutela del paesaggio con l'economia turistica del territorio prevede la convocazione entro 15 giorni di una conferenza dei servizi con la Regione e con gli operatori che per il 2 novembre dovranno inviare una nuova istanza alla sovrintendenza per il mantenimento delle strutture. Penso che sia un buon punto di partenza perché comunque insomma dà un po' di respiro nell'ottica di un lavoro più corale, più complessivo con un impegno anche da parte della Prefettura a convocare una conferenza dei servizi che guardi la problematica anche in un... Partiamo dal Salento, se c'è un problema di uniformità diamoci delle regole che possano soddisfare entrambe le esigenze. Richieste che saranno valutate come previsto dalla legge entro 45 giorni con la concertazione anche del gruppo di lavoro interistituzionale. Un risultato che era quanto gli operatori avevano fissato come obiettivo minimo da raggiungere. E speriamo si possa arrivare finalmente a collegare tutte le autorizzazioni, anche le mille autorizzazioni che abbiamo legate alla durata della concessione demaniale che ricordiamo scade il 31-12-2020.